Nell'ambito del congresso CTA abbiamo presentato un lavoro riguardante la resistenza al fuoco e la protezione al fuoco delle strutture in acciaio, in particolare protette con protettivi e riattivi, ovvero vernici intumescenti. Lo studio ha riguardato la modellazione in programmi di calcolo avanzati di strutture in acciaio protette con vernici intumescenti, valutando le caratteristiche e le proprietà termiche di questo protettivo basandosi su risultati di prove sperimentali. In particolare le prove sperimentali ci sono servite per poter evidenziare quali fossero i parametri da cui maggiormente dipende quella che è la caratteristica principale di questi protettivi, ovvero la conducibilità termica. In particolare si è visto che la conducibilità termica delle vernici intumescenti dipende strettamente dal fattore di sezione dell'elemento protetto e dallo spessore iniziale del protettivo. Quindi avendo chiarito che la conducibilità dipende strettamente da questi fattori è stato possibile poi andare a calibrare attraverso una regressione lineare una formula che potesse consentire di inserire nei programmi di calcolo avanzato questi protettivi e in particolare quindi di modellare, di svolgere analisi termomeccaniche di strutture in acciaio protette, sia con curve di incendio standard, quali in questo caso è stata analizzata la curva ISO 834, e sia nell'ambito della Fire Safety Engineering, ovvero dell'approccio prestazionale, che è diventato particolarmente innovativo alla luce soprattutto del nuovo codice di prevenzione incendi che ci consente di applicare questo approccio come diciamo metodo alternativo a quello che è l'approccio prescrittivo, ovvero il metodo conforme. Ragion per cui la modellazione sia con un metodo analitico, sia con un programma di calcolo agli elementi finiti di queste strutture protette con le vernici intumescenti, sicuramente potrà giovare sia direttamente il proprietario dell'attività e della struttura che stiamo andando a progettare, sia il progettista che il produttore di vernici intumescenti perché in questo modo potrà andare a diciamo ad introdurre questi protettivi nell'innovativo approccio della Fire Safety Engineering, cosa che attualmente non è possibile e che non sarebbe possibile se non ci fosse un modello appunto, un modello del comportamento termico di questi protettivi.